ragazzi come potete vedere sono quasi le 9 domani è il gran giorno domani c'è Lazio ottavi di finale di coppa italia noi saliamo la ci sveglieremo domani mattina alle 5.45 per arrivare a roma alle 10 e mezza e niente sempre forza novara e dai è tutta ci si vede allo stadio ragazzi sono le 5 27 di mattina tra poco partiremo verso l'olimpico di roma ci vediamo la alla prossima Grazie a tutti 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 Grazie a tutti